Se seguite Melanie del canale Leggi Viaggia Vlogga saprete che oggi sono qui in una data insolita perché abbiamo deciso tutti di partecipare ad un progetto dedicato alla poesia. Ho deciso di accettare di partecipare a questo progetto perché se mi seguite da un po' lo avrete notato io non sono una grande lettrice di poesia e ho deciso che quindi potevo mettermi in gioco volevo accettare la sfida di raccontare cosa fosse per me la poesia benché io non ne sia una grande fruitrice e in effetti io non mi sento di essere una che può dare grandi consulenze sulla poesia da vera esperta però proprio perché non lo sono posso magari affrontare con voi questo percorso e magari da una parte io arrivare a saperne qualcosa di più dall'altra anche voi magari potete pensare di mettervi in gioco e di affrontare un genere letterario che in Italia quantomeno non è particolarmente alla moda. Perché vi dico questo? Perché visto che ci ho riflettuto sopra ho pensato che fondamentalmente esiste della poesia un po' per tutti. molti di noi associano la poesia alle letture che abbiamo fatto a scuola alle rime, alle odi, a qualcosa magari di lungo, di complicato e che richieda una grande preparazione in materia allora questo secondo me è vero fino ad un certo punto è vero che per comprendere la poesia di Manzoni o anche tornando molto indietro anche di Dante o dell'Ariosto bisogna conoscere la metrica, bisogna conoscere anche la storia che stanno raccontando il loro periodo storico per inserirli all'interno di quello che loro vogliono raccontare è anche vero che esistono delle poesie oggigiorno fondamentalmente abbastanza universali da arrivare a tutti anche senza una preparazione specifica in letteratura e senza un grandissimo bagaglio culturale della poesia penso per esempio che ognuno di noi ha letto e capito senza difficoltà una poesia di Neruda che non a caso ha vinto un premio Nobel che arriva al cuore di ciascuno di noi in maniera immediata e diretta senza che ci sia bisogno di una lunghissima preparazione in letteratura in materia di poesia proprio perché il suo linguaggio è talmente universale da essere adatto a ognuno di noi questo è il tipo di poesia alla quale secondo me ciascuno di noi può arrivare e proprio per questo se riusciamo a leggere la poesia di un premio Nobel a capirla senza alcuna preparazione è pur vero che tutti noi possiamo leggere poesia il tema di oggi che è il primo video della serie è perché diamo credito alla poesia e cos'è la poesia per noi allora la poesia e il perché diamo credito alla poesia per me si può dare una risposta unica perché do credito alla poesia e perché secondo me è un genere letterario che andrebbe rivalutato la poesia ha dalla sua per quanto riguarda le poesie che amo io l'immediatezza mentre magari a volte un romanzo per arrivare a trasmettere un concetto ha bisogno di una trama, di personaggi, di tante pagine, di tante parole e di una certa capacità di far arrivare il concetto in maniera traversa la poesia è molto più diretta la poesia può comunicare il concetto che vuole con abilità ovviamente ma anche con l'uso di pochissime parole ci sono sonetti che appunto hanno pochissimi versi se non sbaglio 4, 4, 8 e 6 arriviamo a 14 per cui con 14 versi possono arrivare a comunicarci un universo intero e da noi arriva immediatamente senza il bisogno di leggere dei tomi infiniti se in più pensiamo alle poesie che sono in forma libera ancora più direttamente può arrivarci magari addirittura un haiku e comunicarci un pensiero che invece un romanzo o anche solo un racconto impiegherebbero 20, 30 o addirittura 500 pagine a farci arrivare non a caso infatti nei regimi dittatoriali sono spesso i poeti a farne le spese quando sono in grado di comunicare con pochi versi e con l'immediatezza che sanno creare nelle loro immagini verbali tutta l'opposizione al regime in modo che arrivi anche all'ultimo degli letterati senza che ci sia bisogno di una lunghissima preparazione e anche del tempo e della pazienza per arrivare a leggere un romanzo la poesia è così diretta che se è ben fatta può essere scritta anche su un muro ovviamente la poesia è come dire la narrativa è un calderone vastissimo dove però proprio per questo ciascuno di noi può pescare per trovare ciò che è più nelle sue corde più interessante dalla poesia politica alla poesia d'amore alla poesia del quotidiano ciascuno di noi può scegliere per esempio una poesia di Wislava Zimborska non a caso un altro premio Nobel per la letteratura che ha scritto esclusivamente poesia anche lei ha uno stile letterario e un modo di comunicare le immagini che arriva a ciascuno di noi ci dice dei concetti che per esempio sono comunicati in maniera assolutamente diretta e magari ci fanno scoprire qualcosa di più su di noi per esempio io ho in mente la poesia devo molto a quelli che non amo che vi lascio sotto nell'info box perché è una delle mie poesie preferite che nel momento in cui io l'ho sentita per la prima volta mi ha fatto riflettere moltissimo su un concetto che effettivamente mi si calza a pennello ma alla quale non avevo mai pensato un'altra poesia che sicuramente voi tutti avrete sentito è la poesia che c'è durante il funerale in quattro matrimoni e un funerale ecco anche quella è una poesia che arriva direttissimamente al cuore è una poesia di Oden e anche lì serve a dare il giusto dramma al momento cinematografico in un modo che altrimenti a me personalmente non sarebbe arrivato nello svolgimento di un momento triste in un film che tutto sommato è una commedia questa è la ragione per cui do credito alla poesia la sua immediatezza, la sua capacità di creare con pochissime parole delle immagini vivide che ci arrivano immediatamente la sua capacità insomma un po' di essere uno slogan di concetti complessi in maniera rapida, efficace e diretta raccontatemi voi che cos'è la poesia per voi perché se avete una poesia preferita qual è il vostro modo di dare credito alla poesia se leggete poesia, se non leggete poesia e dopo quello che vi ho detto se magari avete dei poeti da consigliarmi che siano di questo genere io sono aperta ai vostri consigli perché sicuramente ne sapete più voi di me ci rivediamo con questo stesso tipologia di video il 15 di ottobre nel frattempo buone poesie a tutti grazie